scopriamo mercedes classe a sedan partendo dal posteriore caratteristico di questa vettura con i gruppi ottici allungati in tecnologia led doppi scarichi cromati e sigla 180 diesel che identifica un motore 1.5 diesel da 116 cavalli cambio automatico anche la parte laterale della vettura è caratterizzata dall'allestimento amg line con prese d'aria laterale e i cerchi firmati amg da 18 pollici il frontale invece si caratterizza per la griglia del radiatore rastremata verso l'esterno puntellata cromata con inserto stella mercedes e kit aerodinamico nella parte inferiore sempre con alette aerodinamiche e la gran biellatura inferiore cromata i gruppi ottici squadrati sono in tecnologia led abbiamo i fari a led multi beam di classe s sono dei fari a led completamente adattivi che adattano il fascio luminoso in qualsiasi condizione di visibilità e tra le funzioni ci permettono di viaggiare sempre con abbaglianti adattivi poiché vanno a disattivare i singoli led per non disturbare gli altri utenti della strada anche gli interni sono in configurazione amg con sogli illuminati che ci accolgono all'interno della vettura volante appiattito nella parte inferiore pedaliera sportiva e tra gli elementi anche i sedili in pelle microfibra dinamica con cuciture rosse a vista una delle funzioni più interessanti di questa classe a sedan è la navigazione con realtà aumentata è una telecamera che all'occorrenza si attiva per riprendere la strada e con questa freccia blu che è una freccia di realtà aumentata ci indica dove uscire quindi è molto utile negli incroci o nelle rotonde abbiamo anche il pacchetto di assistenza alla guida di livello 2 che tra le funzioni oltre ad avere un radar anticollisione un sistema antisbandamento che ci aiutano in caso di bisogno per esempio a frenare la macchina al posto nostro o di mantenere la corsia abbiamo anche la possibilità di impostare tramite il regolatore di velocità un sistema di pilotaggio automatico che automaticamente individuerà le altre vetture lungo il percorso, rallenterà ed è in grado anche di cambiare corsia e di impostare le curve in modo autonomo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti